Primo piano, spettacolo. E chi poteva immaginare una cosa del genere? Stento ancora a crederci, soprattutto se penso a tutti gli artisti illustri che mi hanno preceduto. Così Andrea Bocelli commenta l'assegnazione della stella a suo nome sulla Walk of Fame, la famosa Passeggiata delle Stelle. Da oggi, passeggiando sull'Hollywood Boulevard, infatti sarà possibile imbattersi anche nel nome del tenore italiano. Questa stella ha un significato simbolico enorme, è il segno dell'affetto del pubblico americano nei miei confronti, affetto che dimostra sempre ai concerti e quando mi incontra per strada. Il pubblico americano ha un rapporto speciale con la musica, si diverte ai concerti sapendo di essere sempre arricchito di qualcosa. In molti in America hanno paragonato il tenore toscano Luciano Pavarotti, altrettanto amato oltreoceano, anche perché entrambi hanno sperimentato sconfinando nella musica popolare. Ogni artista è simile solo a se stesso, dice Bocelli. Se ha un posto nel panorama internazionale è perché è stato in grado di lasciare il segno.